Attenzione, questo giro di video nuovece gravamente sul saluto del vostro portafoglio Bella raga, finalmente ho tra le mani il nuovissimo calciatori upgrade 2324 Fresco fresco di edicola perché è uscito giusto giusto ieri Sono sicuro che questo video verrà tanto tanto apprezzato perché in tantissimi mi lo avete chiesto Su Instagram mi tempestavate di domanda del tipo quando esce e quando non esce Se non l'avete ancora fatto seguitemi anche su Instagram perché vedo che lì mi supportate ben poco Però proprio su Instagram mi tengo aggiornato su tutte le uscite che ci saranno a brevissimo Comunque, nota dolente di questo calciatore upgrade è il prezzo perché costa ben 18 euro e mi duele dirlo perché è un prezzo molto molto elevato Sicuramente il prodotto è di qualità, su questo non lo metto in dubbio però 18 euro devo dire sono tantini Però di roba all'interno ce n'è parecchia Poi durante lo spacchettamento analizziamo insieme tutto quello che possiamo trovare e quello che non possiamo trovare Raga, io ve lo dico sincero, non vedo l'ora di aprirlo solo per poi tirare fuori quelle bellissime cards gold machine Che sono proprio le ultime tre che mi mancano per completare la collezione Poi tecnicamente con calciatori upgrade si chiude completamente la raccolta calciatori Poi mancherebbero solo le bustine del fin del campionato che vabbè quelle col tempo usciranno Ah raga e tra parentesi piccolo consiglio che do a tutti i collezionisti Se volete acquistare le cards del living set della Topps al prezzo più basso di mercato vi consiglio il sito SportsCards In questo momento si potranno trovare le cards di Endo Guerrero e Nunes E sul sito potrete tranquillamente trovarle al prezzo di mercato più basso in assoluto Raga, 3 euro a card Poi per chi come me è grande amante del living set questo è il momento migliore per cominciare a collezionarle Anche perché questo set sta continuando a crescere ed è sicuramente un bello investimento da poter cominciare e portare a termine Ma detto questo signori non perdiamoci in chiacchiere e concentriamoci su questo calciatori upgrade Che oggi, oggi non vedo l'ora di spacchettare, vamonos Collezionisti, eccoci con proti per spacchettare calciatori upgrade con tutte queste novità al suo interno Di a caso ho smesso di mettere a fuoco ma queste sono le novità Si potranno trovare ben 80 figure di aggiornamento, 20 variant esclusive, 11 coach player of the month, un coupon panini e soprattutto 3 card esclusive goal machine Che personalmente come potete ben vedere anche dallo sfondo è la cosa che io sto aspettando di più Signori vi chiedo di sfondare tanti tanti like per questo video perché a me supporta veramente tantissimo Integno ragazzi non ricordo male da questo box upgrade dovrebbero uscire Giroudia e Zola nella loro versione goal machine Adesso però non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo a spacchettarlo come riusciamo Senza fare i danni che forse è meglio perché di solito faccio danni Andiamo subito ad aprire il contenuto di questa bella scatolettina Ci tengo ragazzi anche a sottolineare il prezzo di questo calciatore upgrade perché è di ben 18 euro Ma adesso raga cominciamo a spacchettare e vediamo cosa troviamo subito al suo interno Prima cosa che troviamo è il codice che possiamo trovare sul retro di questa figurina Quindi altra figurina da tenere in collezione se state collezionando anche le figurine extra Poi ovviamente abbiamo anche le 3 card goal machine che tanto tanto aspettavo che sono quella di Dia, Zola della Fiorentina E anche Olivier Giroud, ultima stagione tra l'altro in Serie A e soprattutto in Maya Milan E con queste 3 cards finalmente sono riuscito a concludere le cards goal machine Non è stato poi così facile ma neanche troppo complicato a dire la verità Poi tra l'altro abbiamo anche la checklist con tutte le figurine che potremo trovare al suo interno E anche nel modo di posizionare all'interno dell'album Guardate raga ve lo apro così mettete in pausa se siete interessati a qualcosa perché non voglio perderci troppo tempo Ora andiamo anche con una piccola nota dolente che sicuramente arriccia il naso a me Ma soprattutto a tutti i collezionisti e purtroppo saranno doppie le figurine Esattamente come l'anno scorso le figurine saranno prese in coppia Quindi per chi come me fa il set e il catalogo alle figurine è abbastanza complicato catalogarle Raga per questo vi dico di scrivermi anche su Instagram perché lì vi mostro il segreto per catalogare anche le figurine in coppia Comunque cominciamo a vedere cosa abbiamo Abbiamo Zaraga dell'Undinese e Aslani che non c'era ovviamente nell'album Gaetano che dal Napoli passa al Cagliari e Isaacsen Poi abbiamo Bonifazi e Mazzocchi Passiamo a Buchanan e Lautaro Giannetti Poi abbiamo gli soliti trasferito che vabbè c'è in ogni singola raccolta Poi abbiamo Faraoni e Bondo del Monza Vitigna e Sanbià Poi Masina e Ciacciua Raga non so chi sia sinceramente questo Santiago Castro e Kenan Gildiz Che questa raga è la sua primissima figura nei calciatori panini Quindi complimenti al ragazzo per la sua prima figurina Poi abbiamo Nian e Piccoli del Lecce Passiamo poi a Stolze e Selic Che raga io sinceramente ve le sto scoprendo insieme a voi perché non mi sono spoilerato praticamente nulla Ateborg Cominciamo anche con gli allenatori del mese In questo caso Simone Inzaghi di gennaio Poi abbiamo Kumbulla e Daversa Diulci e Rafa Leao giocatore del mese Uuuu Eccole qui Quelle varianti esclusive che dovrebbe essere 20 Tra l'altro re dei passaggi chiavi 36 Gudmunds E partite con la side all'interno a 100 per Gjomber Vente belle fatte così le figurine Se vi state chiedendo dove mettere queste figurine all'interno dell'album Tecnicamente le gas si potranno attaccare sopra proprio alla figurina che c'è nell'album Quindi al posto della 175 ci si può mettere tranquillamente questa card qui di Gudmundsson Comunque io personalmente non lo farei Abbiamo comunque dicevo Gudmundsson e Kjomber Berardi e Lazovic Poi abbiamo Cristante e Sule Rodriguez e Lautaro e Toro Martinez il re dei gol Poi abbiamo Wallace e McKennie Torniamo alle figurine normalissime d'aggiornamento Che sono Caio George e Occhereke Viola e Daniele De Rossi che sostituisce proprio Murigno Passiamo a Dadoppo e Calzona Lautaro Martinez giocatore del mese di ottobre Daniel Maldini figlio d'arte Suslop e Dionisi Passiamo poi a Cerri che passa dal Como all'Empoli Zanoli Poi ritorniamo ai trasferiti e sostituto Passiamo poi a Bissek che effettivamente non c'era nell'album Penso sicuramente nell'anno prossimo ci sarà E Zemmulo dell'Udinese Barak e Doig Urbanski e Husen che passa dalla Juventus in prestito alla Roma Dybala giocatore del mese di novembre E Dendoker Poi abbiamo Allegra allenatore del mese di novembre Così come con Terracciano Blauic giocatore di gennaio e Traoré Poi abbiamo Kovalengo e Boateng Spence e Rakic Ancora altri trasferiti e sostituto Trasferiti e sostituto Prati e Baldanzi Premier e Lovato Passiamo poi a Inzaghi L'allenatore del mese di ottobre Alcarazza da Juventus Pulisic e Zerbin Fabian e Angelinho Cagliode e Basic Noslin e Gigi Poi abbiamo Odegaard e Francesco Camarda Regà Ru non me l'aspettavo regà Non me l'aspettavo Ru che di questo ragazzo Tra gli aggiornamenti di calciatori upgrade 2324 Regà sincero non mi aspettavo di trovare Camarda Veramente non me l'aspettavo proprio Ma sapete cosa? Io quasi quasi per il ragazzo vado ad acquistare altri upgrade Per trovare altri Camarda tra le mani Regà questa è la sua rookie ufficiale tra l'altro del 15enne 16 anni appena compiuti se dobbiamo proprio dirla tutta Poi andiamo avanti con il logo di calciatori upgrade e Maturro Poi abbiamo ancora delle figurine dorate varianti esclusive Tra cui Leao bellissima Poi abbiamo Deron e Anderson Luperto e Colpani Terracciano e Kvara Scheglia Tavzan e Simeon Uncunco Ho anche detto Simeon della Salernitana Belotti e Valentin Carboni Anche questa è molto interessante perché è il ragazzo veramente veramente forte Zurkowski e Tauba Heine e Iling Junior Passiamo poi a Giallò e Volpato Giallò della Juventus Ngonge e Gedmis Ancora trasferito Trasferito sostituto Poi abbiamo Diego Per... Sì Diego Perotti Santiago Pierotti Vincenzo Italiano allenatore del mese di dicembre Boignan e Zaleschi Davide Nicola e Luca Jovic Passiamo poi a Mina e Gila Vi giuro regà che sono pienamente soddisfatto in questi aggiornamenti Nonostante il prezzo e nonostante le card gold machine Questa figurina di Francesco Camarda mi rende pienamente soddisfatto Non me l'aspettavo proprio di trovarla in questa raccolta Anche perché regà diciamolo ha 15 anni questo ragazzo Poi sicuramente regà non so che carriera andrà a fare in futuro Però al momento ha un prospetto incredibile per il calcio italiano E soprattutto nel mondo delle figurine Mamma mia veramente bella questa figurina Mettiamola qua poi vado a catalogarla Ragazzi questo sicuramente è stato un breve video riguardante calciatori upgrade Perché non c'era tantissimo da dire Però per quanto mi riguarda è sicuramente un video bello e importante Con Ginuzola e Dia sono molto molto contento di aver completato finalmente tutte le 10 gold machine E completare ormai questi extra set della Paris sta diventando sempre più difficile Ma quest'anno finalmente ci sono riuscito Fatemi sapere nei commenti voi come valutate questo set upgrade E con questa bellissima figurina di Odega ma soprattutto Camarda Francesco del Milan numero 73 Vi ricordo iscriviti al canale, sfondate il tasto like Seguimi su tutti i miei social e detto questo Sostenete al prossimo video Ciao!